Questo calendario presenta Pesaro, le bellezze di Pesaro, i panorami, gli scorci, i luoghi suggestivi, ma anche le emozioni, le tradizioni che Pesaro ha come città e sono raccontate con gli occhi del cittadino perché il concorso da dove sono state estrapolate queste 12 immagini era aperto a tutti i fotografi cittadini. Quindi lo chiamo il calendario fatto col cuore perché immagino girare per Pesaro e catturare delle immagini che raccontino la propria città, la città che noi viviamo, ci vuole cuore, ci vuole un atto di generosità anche nel restituire uno scatto fotografico. Quindi ringrazio tutti i fotografi che hanno partecipato, complimenti a chi si è aggiudicato una pagina di questo calendario che penso passerà la storia perché è un anno speciale, un anno da fuochi d'artificio. Le persone che vengono premiate sono tutte di un grande valore e ho voluto fare questo cuore proprio perché rappresentasse la loro musica e rappresentasse quello che loro sentono per Rossini. È un cuore fatto a specchio proprio, che ti riflette e sembra che sia quasi pulsante e quindi io spero che questo cuore dia loro la possibilità poi di avere questa carriera non solo all'interno del loro paese ma in giro per il mondo perché sono dei ragazzi e degli artisti veramente eccezionali.